Prima tre ore d'attesa alla ricerca della disponibilità di un posto letto e rianimazione in uno degli ospedali metropolitani d'eccellenza dell'isola, poi finalmente resosi libero un posto letto in terapia intensiva al civico di Palermo per uno sfortunato paziente niscemese colto da emorragia cerebrale clinicamente stabilizzato e intubato al nosocomio niscemese in attesa di essere trasferito la terribile odissee continuata per la non immediata disponibilità dell'elisoccorso che avrebbe potuto trasferire il paziente dopo tre ore e mezzo dall'allertamento anche per le condizioni meteorologiche avverse. Così i medici dell'ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi si sono visti costretti a trasferire in ambulanza il paziente affetto da emorragia cerebrale al civico di Palermo tra i sentimenti di rabbia dei familiari dell'uomo che oggi si sono recati alla stazione dei carabinieri per denunciare l'accaduto. E quanto si è verificato ieri a Niscemi ad avere vissuto la terribile angoscia fortemente provato dalle manifestazioni di rabbia e protesta da parte dei familiari del paziente trasferito dall'ospedale di Niscemi al civico di Palermo per la sanità sempre più al terzo mondo che si delinea a causa dei continui tagli è stato anche il sindaco Francesco Larosa che da quasi 40 giorni attua il presidio permanente all'ospedale di Niscemi per la grave carenza di personale medico, infermieristica, ausiliario e di autisti d'ambulanza. Sono arrabbiato anch'io per quanto è accaduto e di cui sono stato testimone ha detto il primo cittadino veramente non ci sono parole che possano bastare per esprimere tutta la mia amarezza e il mio rammarico, la mia rabbia per una sanità che privilegia soltanto gli ospedali delle aree metropolitane come se in tutti gli altri comuni dell'isola vi siano cittadini di serie B che possano rischiare anche di morire. È una vergogna contro la quale continuerò a lottare con maggiore vigore ed energia per la difesa del diritto alla salute dei miei cittadini. Con la giunta adotteremo una decisione forte e non si riesce a capire perché nonostante gli scemi sia dotata di un elisuperficie diurna e notturna non vi sia stata l'immediata disponibilità dell'elisoccorso se non addirittura dopo le tre ore successive. Tutto questo è assurdo e inconcepibile.